Visto che anche in situazioni di crisi c'è la possibilità di un soggetto di reagire e di viverla anche in positivo, cogliendo un'opportunità buona, con quali criteri dovrà comunicare la crisi? Perché la storia, attraverso tutte le testimonianze del crisis management, ci porta esempi di persone uscite dalla crisi da vincitori, non è un caso che alcune delle più grandi aziende nella storia siano nate durante il periodo di crisi. Hai detto giusto, la crisi è un'opportunità, quindi dobbiamo prendere l'opportunità, perché è un'opportunità? Cominciamo da questo, perché guardiamoci in faccia, noi siamo dei bastardissimi conservatori, cioè non è un'affermazione politica, è un'affermazione statistica la mia, nel senso che noi amiamo le routine, per la miseria, quando qualche cosa si sposta e ci costringe a spostarci dalle nostre abitudini, perché soprattutto quando il mondo è complesso e complicato, mettere in piedi delle routine ci aiuta ad automatizzare dei percorsi e a ridurre il carico decisionale che dobbiamo prendere di fronte alle complessità. Quindi qualunque evento che ci sposta dalla routine ci dà fastidio. Però anche il banale blocco del traffico che ci costringe a andare in ufficio per una strada diversa, mai facciamo sempre la stessa strada col pilota automatico inserito fin dal mattino, così appunto non pensiamo. Alla fine quel blocco che ci costringe a cambiare strada dice, oh guarda, che scocciatura aver cambiato strada, però ho scoperto un paio di negozi interessanti. Guarda, non ero mai passato attraverso questa zona, la cosa si fa interessante. Cioè a posteriori, non l'avremmo mai fatto, ma una volta costretti a farlo abbiamo colto l'occasione di scoprire che c'è stato qualche cosa di buono. Ne abbiamo di proverbi così, beh è stata una brutta esperienza, ma ho imparato qualche cosa. Questa è la nostra capacità umana fortissima. Siamo un po' pigri ogni tanto, la routine ha a che fare con la pigrizia, con la fatica in termini fisici proprio, della fisica intendo dire, è quella che dobbiamo spingere via. Quando capita un'emergenza, quando capita una crisi siamo costretti a cambiare. Allora prendiamo l'occasione, già se siamo costretti a cambiare, se dobbiamo ricostruirci la casa e fino a quel momento avevamo il bagno in giardino. Non dico che dobbiamo farci necessariamente la jacuzzi, ma forse diventa più comodo per fare in modo che la nuova casa abbia il bagno all'interno e non più in giardino. Quindi abitudine, rottura delle abitudini, forzati a rompere le abitudini, cogliere l'opportunità per governare quel cambio che comunque ti imposto. Non avresti mai voluto cambiare, ma lo fai e allora governa. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto hai sottolineato la parola comunicazione. La parola comunicazione è fondamentale. Noi non possiamo parlare di crisi senza parlare di percezione del rischio. Ciascuno di noi ha un livello di percezione del rischio diverso, una sticella che ci fa sentire a rischio in funzione di tante cose che sono le nostre conoscenze, evidentemente abbiamo parlato di incertezza, ma anche le nostre esperienze. Aver sperimentato qualche cosa è evidentemente la seconda, la terza, la quarta volta, non è più una novità e questo riduce l'incertezza. La comunicazione, l'informazione che abbiamo intorno all'evento, il fatto che non sia magari stato esperito da noi ma da qualcuno vicino della nostra rete parentale, amicale. Allora ci sono tanti fattori che plasmano la nostra percezione del rischio e pongono la sticella a livelli diversi. Di questo dobbiamo tener conto, perché quella percezione del rischio è quella che poi insiste, è quella da cui deriva la nostra definizione di evento critico oppure no. Mi trovo in crisi o non mi trovo in crisi anche rispetto alla percezione del rischio. Voi vedete che, come l'ho descritta, la percezione del rischio ha una dimensione squisitamente comunicativa, comunicazione, informazione, formazione, relazione, esperienza, che è una forma di relazione, squisitamente comunicativa. Quindi c'è una dimensione percettiva del rischio, fortemente comunicativa, soggettivamente fondata, che orienta la nostra percezione della crisi e che si scontra spesso con una dimensione oggettiva della crisi. Certo, la posso misurare per numero di vittime, per numero di risorse perse, questa ha una dimensione oggettiva, ma anche qui non è sufficiente a definire la dimensione del rischio senza il fatto che quel numero di perdite, quelle risorse che sono state perse non si misurano con le mie esperienze precedenti. Quindi la comunicazione è un asset fondamentale. Se è un asset fondamentale nel definire la crisi, diventa una strategia fondamentale per governare la crisi.